Grazie amici, sono il mio sentito, consigliatevi con la persona con i vinti d'ansia sul porto del suo lavoro e quindi noi vi auguriamo una buona settimana e alla prossima. Il 12 gennaio, l'Ondo di Villa Valle Londra organizza una festa in onore a San Antonio Abate per informazioni 416-743-9401 Il 20 gennaio East Dance Theater presenta In Pulse per informazioni visitate il sito eastdentheater.com ed è tutto anche per questa serata passata in campagna di ora qui portata a voi da Culegio di International. Naturalmente da tutto lo staff, il coraggio, il buono, il condimento di solata naturalmente ci vediamo domani sera. Il 416-743-1043-10401 Ma ecco, ma ecco, ce la facciamo a fare una mossa, una mossa non la posso fare qua troppo normale, devo fare una mossa in sette tempi, che è anche molto pericolosa per la mia età, non so se ce la faccio, se ce la fa maestro, pensiamo. Questa è una mossa, che vuole vedere, la? La? Ma voglio sentire come, in una fleccia dei doros. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.